Io volevo dire che questa mozione era stata già discussa tempo fa, è stata ritirata perché abbiamo fatto una commissione ambiente dedicata al tema dove abbiamo individuato delle criticità che andavano considerate, sono state inserite in questa mozione e quindi a seguito della commissione questa mozione è stata arricchita di più elementi importanti proprio per tutelare la salute dei cittadini contro l'elettromagnetismo. Quindi semplicemente dire che è stato fatto questo lavoro e quindi è stato riportato in aula per la votazione oggi. Grazie.